Oggi è venerdì e voglio fare qualcosa di diverso visto che arriva il weekend. Vi voglio consigliare un libro, un libro che ho letto qualche anno fa. È L'arte della vittoria di Phil Knight. Phil Knight è il fondatore e colui che ha costruito la Nike. E è una storia intima, profonda, perché racconta passo a passo come è nata l'azienda. Questo è, vi voglio far vedere il libro, questa è la copertina. E vi voglio pure leggere uno straccio del libro che, devo dire, accompagna perfettamente i momenti che stiamo vivendo ultimamente. Poche idee sono folli come la mia attività preferita. Correre. È dura, ingrata, rischiosa. Quando corri non hai una destinazione reale. Quanto meno nessuna che giustifichi appieno un tale sforzo. È l'atto stesso a diventare la destinazione. Corri, perché l'alternativa, fermarti, ti spaventa a morte. Lascia che gli altri definiscano folle la tua idea. Tu prosegui per la tua strada. Non ti fermare. Non pensarci neanche di fermarti. Finché non arrivi là. E non stare a preoccuparti di dove sia là. Accada quel che accada. Tu non ti fermare. In questo periodo stiamo parlando proprio di quanto sia importante non fermarci. E accada quel che accada. Perché se non ci fermiamo, arriveremo là. Io resto produttivo.